Il pittore, ecco, c'è un disegno, parte da una definizione di cultura e realizza un disegno, questo è il pittore. No, ecco, io non lo saprei, non è la cosa della classicità, però, ecco, forse di fronte ad altri artisti che erano la cosa, i concettuali questi qua, bravissimi artisti, però io, in generale, in diverso, sono un umanista.